ed eccoci qua pronti per continuarlo non mi ricordo assolutamente dove siamo arrivati una figura di matto ma voglio 0 ho la pena usata dovevano rimasti allora non mi ricordo nulla quindi posiamo allora dovevo andare dalla pianta e siamo d'accordo poi devo usare tutto spiano la chiave e poi in realtà niente solo due erbe miste speriamo in bene e andiamo così non so dove ma da qualche parte andremo quindi un momento che mi ricordo i pulsanti va così ok le 1 e 1 e 2 fa lo stesso al quadrato mi ricordavo che c'è un pulsante rapido per la mappa cominciamo bene siamo sicuri che non era select non vorrei mai che no dov'è qua impostazioni controller no mappa dovrebbe essere ero 1 è lì da qualche parte la mappa insomma di quei comandi lì ah l1 giusto giusto me lo ricordo quindi potrei provare a vedere se questa porta per esempio si apre anche se non credo perché proprio quella lì dietro salve salve apriti 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 ma vaffanculo il giro salve pulizzo o me ne vuol anche perché non avevo più chiavi artigianali perfetto e chiosa e quando mai già prima o poi questo si alzerà abbiamo una porta ah no siamo lì qua quindi allora devo scegliere bene quindi vado da questo lato il problema è che qua c'era la chiave finta quindi non posso essere di qua infatti dalla volta opposta permesso permesso no lo sapevo che si alzava prima o poi doveva alzarsi un pozzo furioso è un pozzo furioso vado via vado via salve immagino che quella che ho appena schippato sia la mia porta bloccata vero salve si è sempre resident evil si è già rialzato quell'altro zombie chiaramente meno male che sono fuggito come un'anguilla proprio suggeriscimi se sai tutto perché è uno di quei giochi che devo ancora finire poi giocheremo a code veronica e poi solo per voi faccio la mia prova di sopravvivenza con gaiden signori bene 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 dunque allora ti spiego innanzitutto devo trovare la pianta perché ho raccolto solo la sostanza chimica quindi per farti capire siamo a questo punto appena eccolo quindi ho la chiave ah è un'imitazione di chiave ho sbagliato tutto ho pensato di avere una chiave vera va bene quindi so dove devo andare ho sbagliato devo andare esattamente dove ero prima ciao matte sì 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 devo andare già e quindi no in realtà forse no me lo becco il pazzo corridore quindi devo andare dove c'era la stanza dell'armatura e sostituire la chiave salve e la madonna vado via vado via e vabbè ma tu non puoi correre così sei troppo grasso vai via no no vado via vado via non mi prendi non mi prendi ah in realtà Chris volendo è anche più sì è tutto bello il volendo Chris è anche più veloce di questo corridore pazzo dunque si prende questa e siamo d'accordo dai su non farla per le lunghe dai arrivo se mi fai fare scusa pala eh e dimmi un po' questa ah l'armatura allora signori giriamo il mondo adesso comunque non so dove sia la pianta eh dove devo mettere poi tutta la e qua cosa abbiamo scusami è chiusa ah proprio l'elmo tutto per prendere le quattro maschere ma come non ne ho preso neanche una ma però aspetta andiamo con ordine perché prima devo trovare la pianta al secondo inventario come se li avessi ordinati ah c'è quel pazzo furioso quindi devo trovare un po' di porte adesso tutte quelle bloccate buon di buon di buon di sono di passaggio ok sono salvo si ho detto che era tutto bene si si va bene diamo piano che è qui menomale che l'avevo letto sulla guida che mi diceva se ti trovi in questa stanza vai piano che ti attaccano adesso col piedi sopra devo fare il giro largo perché c'è un pazzo vado via accelerazione improvvisa vado via ah ok lo chef matte quindi questo cadavere non si deve bruciare no è l'unico cadavere che non si muoverà mai quindi porta numero 1 è chiusa e quando mai porta numero 2 e grazie e una è andata oh adesso ci divertiamo dovrebbe avere becca però poi beh io ho sempre giocato ogni lunedì a residentivo cioè come siamo eeeh non so se mi conviene raccogliere adesso gli inchiostri lo so eeeh c'è solo uno slot però a meno che io non trovi la pianta sì 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 ok prendi ma il nastro di salvataggio no perché comunque rimane qua dico se c'è un oggetto più importante da prendere ora tipo questo ecco infatti prenderlo spartito non prenderlo va bene ma poi scusami ma scusami ma scusami una domanda ma tanto l'ho spartito se serve a Rebecca non posso buttarglielo già qua no non lo fa ok ce la puoi fare a prendere ecco ah ecco per quello sì pure è tutto exodia sto gioco ogni volta da riunire tutte le parti devo ancora prendere lo scudo già e poi c'è anche l'enigma dell'orologio che non mi fa fare ancora sì 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 cioè dritto interna di doppie porte quelle davanti ah pensavo ci fosse l'inventario da queste parti ok sì di qua ce l'inventa altra parte però qua mi sa che ci sono un po' di poter sbloccare comunque di nuovo ok mi sarà permesso per che miseria al limite no però mi ribecco lo stronzo non è meglio l'altra porta forse è meglio l'altra porta esatto grazie è però questo qua è un po' otto eppla ah in realtà è più facile del dovuto cosa che ho messo a facile che mi mi fanno passare tutti in realtà no aspetta da quando qua c'è uno zombie oh oh da quando no dai ne basta uno non c'è bisogno salve mi han detto che non mi beccano sulle scale perché vomitano ok che cazzo è uscito questa musica è uno zombie poi non è che mi devi fare tutta sta roba quindi tacchete e poi dove è la pianta dimmi un po' si si però è uno zombie qualsiasi tra l'altro la pianta è al pion di sopra ah in quella porta verde dove bussavano prima ho capito no continua per il corridoio c'è una porta chiusa perché mi serve l'elmo mi serve guarda eh ma perché sei qua adesso la porta è chiusa aspetta forse è perché ah ok ce l'ho no perché mi ricordavo male penso che volesse l'elmo qua ah siamo arrivati davanti no se non ricordo male arrivano i cani non mi ricordo ah no arrivano direttamente gli zombie qui no granata no io speravo che la usasse come il pugnale e va bene non ho granata è finita non ce l'ho vado adesso arriveranno mi le palle io sto lontano non ce l'ho la granata l'ho visto prima eccoci qua come sta lì vabbè ormai ah sul tavolino quella la prendo dopo dunque posizioniamo la cosa e siamo d'accordo assoluto libero meno male grazie ok sì perfetto sì sì avevo anche letto questo sulla guida che sul verde succede una tragedia e ti apprazzavo tutte le piante buone eh lo so lo so lo so l'avevo letto la cosa divertente però è che ho fatto tutto sto casino senza avere uno slot cioè abbastanza slot per prendermi le piante quindi ho per il momento prendere solo la maschera eh sì perché intanto non posso prendere le piante e infatti va bene devo analizzarla no non mi sembra no niente t'apposto 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 e adesso ci divertiamo lo so che me ne servono 4 lo so alcune cose me le ricordo perché non l'ho finito però perché era troppo grosso però in qua l'ho fatto adesso arriveranno gli zombie vero con l'inquadratura perfetta per quello adesso adesso ci si diverte vabbè vado 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 permesso permesso grazie grazie gentilissimi porto numero 1 ok o quella in fondo intendevi ah qui esce si succede un puttanaio qua dentro qua ah mi fanno lo scherzone ma ci sono no importante 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 a posto molto importante c'è solo questo o altro da raccogliere così non torno mai più mi sembra che non ci sia nient'altro erano solo zombie giusto vado via c'è altro se vuoi combattere si lo so però non ci sono altri oggetti di nessuna importanza non torno mai più perfetto buon dì vado eh permesso grazie ah meno male l'ho aperta si ok si non ho preso la granata sul tavolino comunque e siamo di qua perfetto adesso vado vado a posare la maschera così abbiamo lo slot libero e lo scudo non me ne ricordo dove si usa e non mi ricordo neanche come si attiva l'orologio con lo spartito lo scudo in che senso mi sblocca una porta dove devo usare lo spartito dove devo usare lo scudo cioè uso lo spartito per sbloccare la porta dove uso lo scudo si e ok ok e poi tra l'altro qua devo ancora raccogliere dei proiettili un attimo ma anche a te fa schifo a code veronica per qualche stana ragione alla gente fa schifo allora senza occhi dovrebbe essere questo va bene è il peggiore di quelli fatti bene per me come il peggio guarda che a me piaceva anche Resident Evil 6 quindi non so cosa intendi tu però ma poi come fa non piacere c'è in code veronica c'è il primo scontro tra Chris e Wes che è fighissimo e boh è strano non si vede niente lo scopo sempre per caso che c'è ecco infatti ah ma qua ci sono delle erbette ma guardale lì come si nasconde credo no non sono erbette ok no sembravano perché qua è tutto tutto erba qua inventario mi sa che ero dell'inventario di nuovo l'inventario lo troviamo per di qua oppure aspetta magari riesco a buttare la chiave usandole dappertutto eh andiamo dall'altro lato dove ci sono tutte le porte da sbloccare così magari butto la chiave la prima porta a destra non è quello che ho fatto aspetta 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 che qua avevo delle porte bloccate ecco tipo questa perfetto quella si 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 ho sentito il passo inutile che fanno finta ah cinematica ah eccola qua la Rebecca ok oh contro il copro di merda oh il copro di merda Io l'ho salvato, chiaramente, la prima volta, però non so che vantaggio mi dia rispetto al gioco, eh, comunque. Sì, sì, so dove devo andare. Però non so perché lo debba salvare, cioè a livello di gioco non me ne faccio nulla, però... Ti do un fucile extra con Jill? Ah, ok, l'hai fatto solo con Jill. Io dove mi trovo? Sono al secondo piano, devo scendere, quindi... Sarà dura perché non è in tempo reale la live. Quindi... Io sono lì. Potrei... Aspetta, sì, 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 sì. Inventario della... No, aspetta, c'ho un'idea. Io vado già subito a sinistra, prendo la seconda porta, che c'è di là a sinistra, e poi scendo e trovo l'inventario. Servirebbe avere un numerino per farti capire quanto tempo ci vuole, comunque. Seconda porta, seconda porta, seconda porta... Opla! Ma porca miseria, fino adesso andava bene. Ok. Comunque, relativamente tanto tempo, io ormai lo faccio morire sempre e mi stufa... Ma perché devi farlo morire? Porca miseria! Sto messo male? Insomma, mi ha fatto cambiare lo stato, ma non posso perdere tempo a sparargli. Gli è andata bene. Eccomi, eccomi. Quindi, pausiamo sta roba per cominciare. Poi, robetta. Vado! Vado! Ma hai detto che ci mette tantissimo a schiettare? Porca miseria! Porca miseria! Madonna, 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 Madonna! Quanto devi sgranocchiare! Muorici, muorici! Mi sono stancato! M'affanculo quanto mi fai morire male! Vai, 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 vai! Lo ammazziamo dopo, lo ammazziamo dopo. Tranquillo che questo qua sulle scale me lo ammazzo poi dopo. Buondì. Dopo ammazzo anche te, non ho tempo adesso. Quello su PS1 mi ricordavo che era più veloce a morire. Dunque, dunque. Forse perché l'ho anche messo facile, quindi può essere quello la differenza. Qua. Eccomi. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta. spero che questo sia quello che volevi. Grazie. Ero a dare una scuola ora, Richard. Vieni in là. Qui. Prendi. È una radio. Ah, ho vinto una radio. Guardi a te, Rebecca. Richard. Ma sei stonzo? Ho corso per te e muori così? Ah, ok. Rebecca, non è sicuro qui. Ascolta la musica mentre gioco. No, gioco la radio. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with the gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? Ah, c'è che poi adesso c'è l'opzione per un tempo limitato, tra l'altro, che Rebecca mi possa curare. Però non ha scritto nessuna parte che è limitato e dovrei saperlo tu. E questo è bello. Allora. continuo a fare quello che facevo prima, quindi esploriamo la zona e poi mi tocca quella bestia di merda. Tre volte finché non esci dalla... Ok. Allora. ogni promessa è detto. Inchiacris, però, sei anche un coglione. Ok. Ecco. Come dicevo, lo ammazzavo. No, aspetta, volevo prima prendermi delle cure perché non le ho più. Ok. No, 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 fate i casi tuoi, Rebecca, no, 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 voglio solo roba nel mio inventario. Basta. Dicevamo. Allora. Tanto devo... In realtà dovrei anche mischiare le erbe che ho trovato dall'altro lato, eh. E ho anche delle tanniche da usare, tra l'altro. Mamma mia, quanto... Vedi perché poi io droppo una roba del genere, perché c'è troppa robot. Ma state calmi. Ma porca miseria, oh. tannica, dai, vado di tannica. E no, e no, tu dovevi essere morto, che palle. Questo è ancora chiuso, sì. Non lo vedevo andare. Ditemi, ditemi. Allora. Sempre dritto. No, sempre dritto c'è il posto di merda, se non mi ricordo male. La stanza verde giallognola, se non dico così. e tra l'altro una porta in basso a destra che non ho fatto. Beh, sono uscito di qua. Già. Dove stavo prima dove? Cioè, passo da sotto? Oh! Cacca miseria! E' una po' più lì. Al piano di sopra. Ok. Questo almeno è più tranquillo. Vado. Laia. Eh, vabbè, ognuno ha i suoi impegni. Ce la farò? Chissà. Quindi, provo innanzitutto a quella porta rossa. Yeah! Cosa troverò mai qui? Azz! Un altro posto dove ho bisogno di... posto, mi sa, nell'inventario. Ah sì, che qua... trova un suo vecchio amico, se non ricordo male, e che poi diventa un zombie assassino, ma, prima di tutto questo, però mi sembra anche delle erbette. Molto bene. Buondì! Interagisco dopo? No, non posso interagire dopo. No. E io appena andrò di là, lui sarà molto simpatico. Però qua, eh, ci sono delle erbette. Già, già, mi ricordavo bene. Sì, fammeli raccogliere almeno. No, non le posso raccogliere. T'ho preso! T'ho preso! Mamma mia! Eh? Ti dirò di più, signore. C'ho anche la tanica. Come non è necessario? Ma sei cretino? Questo non lo posso bruciare, vabbè. E la prendiamo, così non torno mai più qui. Perfetto. Mamma mia, che casino sto gioco. Vabbè, vabbè, vabbè. Mi ho bazzotto tranquillo. Bene, così me lo posso dimenticare. quindi da qui l'alimentario ce l'ho anche al piano di sotto. Però al piano di sotto ero in casino. Meglio il solito lato, eh. Aspetta, aspetta. Oh! Un attimo a velocizzarmi. Allora, perché anche lì poi, prima della stanza del serpente, in realtà c'è una stanza relativamente importante. E poi ci sarebbe anche la stanza con... Sì, che ho trovato la pagina e risolvo l'indovine del volissimo. No, in realtà potrei anche passare di qua. Vediamo se me la fa buttare. Oh, perché? No, perché? Oh! No, ma no, 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 no. Ma uno non può. Tanto è uno zombie normalissimo. Non c'è bisogno di fare sto casino. No, aspetta. E ne ho... Dove ho salvato il tizio, scusa, eh. Ah, siamo in quella stanza stupidissima. Sì, 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 che si è preso da un lato. Qui abbiamo... Almeno c'è un momento di pace. Oh, yes. Ah, sì, qua c'è un'altra stanza stranissima con la testa d'alto, se non mi ricordo male. Eh, sì. Eh, ho un sacco di roba da fare adesso. con l'erbette. Questa è aperta. Che incontratura è questa? Oh, yes. Una chiave artigianale. Eh, un sacco di roba. Un sacco di roba, però almeno è un po' tranquillo. Perché sta musichetta non si sa. Oh, yes. Eh, devo fare un po' su e giù. Donna pure indietro. Ah, mamma mia, che casino. Però le cure almeno ci sono. E la cosa bella è che sta zona è libera e in più siamo già arrivati il punto della storia dove c'è Wesker che ci aiuta. Io un'era della sorte. I proiettili dove sono? Nella stanza a destra, sì. Ok. Forse ne era difficile e non c'è sta cosa. Eh, ma sono spariti tutti. Ma no, quanta roba. Allora. Prima di tutto. Posa un attimo. Poi prendi la barossa. Poi la mischi e siamo d'accordo. Così cambiiamo un po' di colore. Ok. Poi raccolgo tutto quello che c'è nella nostra vita. Mamma mia, troppo facile così. Bellissimo, bellissimo. No, che cazzo fai? Così. Tutto in preparazione al combattimento difficilissimo con Toh. Il... Sembra sempre di usarlo. Contro... Il cobalt gigante. Va bene. Sì, 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 sì. Molto bene, molto bene. Dunque. Forziamo tutto nello stesso box. Va. Ok. Così. D'accordo. Sì, sempre armato questo, mi raccomando. Ah, la tannica... Non so. No, aspetta, aspetta. Prima facciamo il giro del mod in 80 giorni, quindi in questo spazio non ho bisogno di tutti questi oggetti, quindi posiamo pure tranquillamente. Anzi, potrebbe avere bisogno di un'erba rossa, in realtà, così mischio direttamente lì. Ok. Ok. eccoci qua. quindi avendo un'erba rossa io faccio già così non è questo. Perfetto. Qua c'è un'altra better un micro no, però c'è anche altro da raccogliere. medikit è la chiave incredibile da gold Nell'altra porta serve la chiave? Oh no! Usiamo questa sì, dai vediamo Oh! Sta stanza molto molto complessa Lasciamolo qua tanto serve in questa stanza Mi chiedo non ho potuto chiamare un uomo con un paio di occhielli adesso mi consiglio di solito telefonare mi spiace quando decide dove cominciare mi chiede dove spiegare in poche parole non ci riesco spero che sia perdonato niente che mi serve per il gioco mi c'entra la battaglia lo stesso sì, lo so e viva dunque no tanto è tutto un gioco che devo fare qui no no non lo stai fermo invece la porta che l'ho già aperta ma c'è ancora una porta chiusa quindi però in effetti un pochino ne avrei bisogno perché quindi assolutamente si posa questo poi torniamo con la chiave e poi botanica ma non so non ho tanti zombie distesi o attra o o o o o o o o Non si si apre? No, sarebbe l'elmo qui Quindi Non ho provato quella porta lì Ah no, è quella finta, è vero Sì, sì, me ne ricordo Qui invece nella parte di sotto della vita Abbiamo, sì, la macchina da scrivere Quella che va solo da un lato Eh, però sarebbe comodo andare a portare Quindi Dovrei esplorare ancora bene quella zona lì Adesso a destra C'è sempre il simpaticone e devo andare esattamente da lui, vero? Già Grazie Eh, non ho la tannica C'è anche questo da risolvere Ma forse, dico forse Continuiamo, va? Oh yes, mi ricordavo bene C'è un bel banchetto Prima di andare avanti Da quel che mi ricordo non c'è subito il cobra Comunque Prima che parte Devo proprio andarci deciso Allora, adesso c'è una stanza preliminare Esatto, questa E anche... Eeeh, già qua sei E dai, elevati E dai E niente, mi vuole abbracciare Finito? Di rompere? No, non ha finito Ma che cazzo vuoi? C'è più lì più un pugnale E che palle però Sei anche immortale tu E grazie Quindi Mischio con l'altra betta rossa Con l'inventario E torno con la tannica E lo faccio fuori Aspetta Quindi l'inventario Devo andare tutto di là E scendere D'accordo? Non mi ricordo più le cose Aiuto Nissà perché Comunque Ecco, devo andare esattamente di là Permesso, permesso, permesso No Aiaiaiaia Niente E uno non può Fare niente Uso Eh? C'ho tutte le mie cosine da fare Per cortesia Un attimo di rispetto Di qua Perfetto Quindi Uh, ne abbiamo ancora voglia Quindi Questa che si abbina Questa che butto Non ho altre erbe rosse O altre erbe verdi No, ce l'ho, l'erbe rosse Quanto mi piace quando sono pari Perfetto E mi piglio la tanica Così andiamo a divertirci Si, 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 si Permesso, grazie Si, 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 si Proviamoci Perfetto Via 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 Chi brucia Opla Gentilissimo Musica Sì Sì Qua ci sono delle candele D'accendere Mi ricordo è qui che c'è la seconda parte dello spartito come no sei solo stupido qua c'è la sorpresona sta fino alla fine salve aia che miseria sei dei fastidio tanto c'ho la tannica pronta per te chi ride adesso l'angolatura peggiore della vita non l'ho visto non l'ho visto non l'ho proprio visto permesso quanto sono forte che ho ancora tutti questi fogliettili qua dovrebbe esserci lo spartito signori e lo trovo attenzione così andiamo subito dal pianoforte e ci buttiamo Rebecca non ho ancora approfittato il sicuro in realtà e se la metto nel pianoforte forse non mi cura più sì forse non avrei dovuto usare la tannica visto che non ci vado più però c'è l'unica volta che avevo la tannica per un zombie inutile oh salve 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 comunque mi sembra di cavarmela bene in realtà mi sembra che ti stanno andando bene poi non so perché io di base vedo tanti fogliettili allora penso di andare bene a prescindere quindi sì sì figurati guarda guarda che poesia proprio allora 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 ah sì l'altra metà lo so dove però devo prima posare il mondo sì 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 il problema è che ho bisogno di spazio nell'inventario il fastidio della mia vita l'inventario dove devo andare che casino no aspetta adesso c'è la scorciatoia quindi è più facile di qua e poi in realtà sarei anche comodo perché è il lato giusto dove devo essere vabbè che bella sta scorciatoia meno male che l'hanno inventata ma sei senza ma porca di quella t'ammazzo la vita ma veramente muori più volte e vabbè l'amico frizz e muorici pure tu oh allora Chris quando vuole fa anche gli headshot quando vuole non si ha mai qua ecco la granata molto molto importante sì permesso mi fai passare no non mi fa passare ficcati sta granata bravissimo esplode 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 giusto? ah questa vabbè poteva già dargliela aperta però vabbè non mi chiederei più niente non mi chiederei più niente non mi chiederei niente non voglio niente ma stai zitta no tutto questo anche se potrei vabbè adesso non ho il serbatoio e possiamo andare a divertirci con lo spartito ma è ancora lunghissimo ancora lunghissimo sto gioco è un hub inside tu che lo conosci a memoria mamma mia non lo finirò mai più eh minchia se sono in mezzo a tutto proprio ma poi volevo anche sapere aspetta non dico che l'ho già fatta beh in realtà qua vorrei raccogliere un bucchio di roba però prima allora io mi ricordavo che forse mi confondo col primo su ps1 però sulla statua della tigre se io mettevo una pietra preziosa era mi sparava il veleno ah no non è qui me lo confondo con quello del ps1 perfetto ma ma fagli un headshot cretino ah vabbè non mi importa allora quella stanza non me la ricordo però prima devo andare a fare sta roba non finisce più dunque ma perché devono farmi sto scherzo io l'avevo spostata dai così di qua dovrebbero essere solo sti due vero hopla posalo lì voilà grandi talenti di Chris ricordiamo che però su Resident Evil Zero Rebecca non sapeva suonare gli era stato richiesto di suonare lei non lo sapeva fare ho dovuto chiedere a quell'altro Rebecca ha imparato da un capitolo all'altro perché dopo ha avuto la lezione e quindi ha imparato si divertiti e ciao allora perché uno dovrebbe dire no cioè non mi sembra mi sono sempre chiesto cosa sarebbe successo se avesse risposto di no quindi ho già scordato la vita ah si si devo andare dove c'era la pianta no ma tu sarai stronzo e comunque fammi passare esci ecco quindi nabinsider ho appunto sapere sta cosa cosa succederà se dicevo di nuovo Rebecca perché mi sembra una roba stranissima permesso porca di quella ma guardate eh crepa crepa ecco ecco crepato direi vado 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 qua qui abbiamo eh si da un'ora e da un'ora che sono qui ecco 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 allora io mi ricordo non mi ricordo se era per la versione solo sulla PS1 che se tu mettevi una pietra preziosa sbagliata questo qua ti one shottava in base a molte scelte cambiano anche i spieghi si lo so invece per quanto riguarda la tigre invece qui posso mettere entrambi cioè tutte le pietre preziose per gli occhi funzionano o non mi ammazzano mi danno sempre munizioni ah perfetto perfetto, no allora è quello su PS1 che lo faceva, va bene tanto io sono una pietra preziosa per ora no, mi dava munizioni se non ricordo male chissà perché sta a differenza quindi tonno metto l'unica pietra preziosa che ho nemmeno morire non ho messo super resistenza per le munizioni infinite che non tutti conoscono ah pensa adesso ci si diverte quante cure quante cure tanto c'ho spazio direi di starmela cavando bene per essere a questo punto in teoria ma perché ti turbano le animazioni è anche abbastanza veloce comunque ecco qua perché ho visto di peggio gravissima gravissima personaggio che muove la mano è più gravissima quindi quindi e te la fa vedere se la vuoi se la vuoi prendere cioè è importante perché se io non voglio prendere qualcosa lo voglio dire subito se non mi occupo allo slot quindi adesso mi sono giocato le cure di di cosa vero mi sembra di sì già ma se io non voglio prendere l'oggetto ho detto se io non volessi prendere l'oggetto ho il diritto di dirgli no immagino no? è certo già il gioco è abbastanza cattivo di suo allora la tigra dove stava di qua sì eh addirittura che bruciore di stomaco certo che salvo coi nastri anche in code veronica tutti quelli che mi rimangono devo usare i nastri caching cosa vinco? fucile forse l'altra parte non me la ricordo chissà dov'è l'altra petra preziosa a parte che devo ancora risolvere la stanza delle armature che però ho trovato la pagina web comoda che mi spiega tutto quindi dunque io però mi sa che devo andare alla sinistra del personaggio già però mi serve anche l'inventario che disordine queste stanze allora tu 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 mi sei sul cazzo tu 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 eccola lì che parte il concerto sì se sei veloce te lo fa fare abbastanza e poi devo ancora mi sa quella quella porta rossa in basso a destra da fare però devo posare devo posare devo posare però ma perché deve bussare se non vuole uscire poi c'è ancora lo scudo che non so dove usare ma lo userò prima o poi e anche anche l'orologio da fare quante cose nooo no è ancora chiusa che palle eh sì magari dall'altro lato si apre essere poi in realtà sarei di passaggio peccato che sono nella porta stronza che si apre da una parte sola meno male perché tanto io le volevo finire e basta è proprio una cosa mia personale quindi ricordando anche che farò la prova di coraggio con Resident Evil Gaiden vediamo quanto fa schifo eccolo mmm dove sono finito aspetta sì siamo di qua ok ve l'ho già esplorata tutte c'è qualcosa che vibra ah ci sono ancora le finestre esatto non serviva non serviva non serviva non serviva mi divertivo lo stesso non serviva grazie gentilissimo porta numero uno ma non sullo scaffale e non si apre vero o no eh orca miseria bravo oh e farlo sempre scoccia infatti però quello era bello oh orca miseria se sei stronzo nella tua vita alzati eh ancora ne vuoi ma quante ne vuoi levalo crepa ma perché non lo può uccidere basta oh ancora ma siamo seri oh e riposati un attimo questa è aperta e adesso si oh si bloccate tutte dai 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 sto aprendo un sacco di porte e mi perdo così oh oh si oh si questa è la stanza suprema degli enigmi andiamo via va per ora se c'è ancora l'enigma dei cavalieri da fare su adesso quello si sveglia adesso si sveglia quello lì perché è un pezzo di merda ma porca di quella miseria buttalo via no ma non puoi essere così resistente nella tua vita qui non mi ricordo assolutamente non mi ricordo perché ho fatto la prima per segno se neanche tempo non parlavo in inglese qui cosa abbiamo cani? cani si noo che palle che siete finito? eh grazie eh da bambino si noo ce ne son due no lo scudo non ci entra mai qui quindi non è per lo scudo forse ho anticipato la stanza ma tanto il cane c'era lo stesso deve stare calmo questo zombie deve stare molto calmo deve andare all'inventario già e lì c'è la stanza dei corvi che mi butta poi nel giardino ok tu sei immortale porca miseria ma perché è così duro questo zombie non è che abbia qualcosa in più degli altri ah che palle vado via comunque siamo messi ancora bene perché traspare di tutto eh guardate minchia sono mille cure mille proiettili quindi c'è sono una favola proprio e boh per il momento non so se già prendermi il fucile però in realtà di proiettili ne ho quindi non è che mi mancano quelli potrei dai festeggiamo con un bel salvataggio dai dire che ci siamo dovrei andare bene ciao dovrei cavarmela bene adesso perché un attimo che se poi finisci con i proiettili puoi anche doppare il gioco perché tanto non puoi farcela quindi è fondamentale fondamentale anche questa musica e quindi allora in realtà avrei ancora da fare l'enigma delle armature e poi passa quello dei corvi e sì ok quindi devo salire qua comodo perfetto e poi vediamo ah e poi c'è anche la stanza con gli insetti imbalsamati eh mica si scappa da lì allora allora ma porca di quella morite tutti ma no buttalo oh finito mi ho appena equipaggiato cioè me l'avevo appena messa oh orca miseria salve allora allora vediamo se me lo ricordo se no trovo la soluzione su internet dunque allora se non ricordo male qui sì devo poi tappare il il buco dove esce il veneno però dove lo vedo non mi ricordo quindi vediamo un attimo night puzzle va bene armor room giusto chiaramente intendo nello remake ma mi sa che è un orange ah sì sì cambia solo quello che ti da però ah ok allora al volissimo vediamo un po' allora se non scena di questo gioco il giocatore può vedere una scritta misteriosa grazie quindi devo spingere la statua del cavaliere con la lancia poi lascio lo scudo secondo lo schema credo altrimenti è possibile prendere un pulsante al centro e la presenza poi la consente ah non c'è il veleno forse era nel remake non mi ricordo vabbè quindi lancia ascia scudo lancia ascia scudo perfetto lancia lancia dove 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 lancia ce n'è uno disarmato perché non vedo bene coi poligoni qua però lancia no questa lancia ah no questo c'è lo scudo va bene quindi questa è la lancia quella è l'ascia in teoria lancia e perché al massimo lo testerebbe ascia ok e lo scudo eh che bravo chissà perché mi ricordavo che usciva il veleno ma voilà è tutto tranquillo bene bene boh è vero sto ricordo sì 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 ecco servirebbe un bel po' di gioia in effetti esamino cosa abbiamo dentro indovino un po' ah che boh non ne ho idea immagine il sole della luna luce del sole mi sveglia eh purtroppo è ambientato di notte residenti allora non posso illuminarlo a meno che però non penso sia davanti al cammino che intende sì devo fare la stanza di corvi sì esatto vabbè e questa stanza l'abbiamo fatta indovinate un po'? esatto oh e grazie eh sì l'ho tolta vesuvia se te ve lo steste chiedendo eh già adesso lo voglio sapere c'è giusto per curiosità ho chiaramente la guida ufficiale solo in inglese a giù è il case giù è il box va bene che ci faccio con sta roba si 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 voglio spoilerarmi tutta la vita dunque no voglio solo sapere cosa faccio col portagio ho detto perché devo andare ancora dai corvi poi non lo so però in realtà sì i corvi mi sbloccano una maschera se non ricordo male allora continua la maschera di una volta ci serve liberare lavare il cimiter per sbloccare la scatola di prendere il pulsante a prendere il cuore ah uno è davanti la scatola l'altro è il retro ma no lo posso sbloccare perché è stupido sul retro no sul retro non c'è un cazzo ah si 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 non succede niente come magica poca miseria si grazie niente non l'ho ancora attivata ah manca questo e poi si apre eh sì cos'è una bomba no come ho fallito aspetta per sbloccare la scatola prendo i due pulsanti a forma di cuore uno è sul davanti della scatola l'altro è sul retro peccato che non cioè che non sia vero perché non è l'altro retro non ce l'ho però devo ah perché devo fare solo il cuore eh però come cos'è ho l'un quindi c'è un ordine giusto allora devo premere comunque tutte e tre a meno che a meno che ahhh ho sbagliato il retro intenso di vedendolo così ahhh eccolo ahhh ho fatto bene oh yes senza occhi nose bocca perfetto molto bene molto bene e io in realtà ne approfitterei visto che tanto sono di passaggio risolvo l'enigma di corvi così arrivo su direttamente lì al cimitero e scendo e sono di passaggio siamo comodi comodi quindi non dovrebbero esserci i problemi però mi porto una cura erbe miste il nostro inchiostratore va bene va bene eh sì sto messo bene direi ok rifugliamoci la tanca così vediamo se lo svuoto è vuota è per forza che la riempio perfetto ha solo più una perché ce n'è poca va bene e andiamo indovinate un po' non so il puzzle del covo ovviamente ehm covo si no ma il puzzle eh sì allora sarà tipo picture puzzle esatto portrait room è tutto diverso nel remake allora una delle maschere nuove sono tenuta qui con il completamente il puzzle allora prima vediamoci aspetta siamo giusti a parte che poi devo ancora poi torno da rebecca dopo però quindi si nooo devo fare il giro largo ti ammazzo ti odio ti odio ti odio devo fare il giro largo che era lì era lì la stanza era lì e invece devo fare il giro largo perché è stronzo e poi c'è rebecca ci sono gli insetti un sacco di roba devo fare e poi c'è in realtà queste tre cose poi non lo so ma ieri ci sia qualcosa di passaggio sì e quindi devo scendere già ah già che anche tutto tuo tutto tuo con amore l'ultima goccia di chiarosene che non ho sono stupido va bene il grande era con il simile non sapevo ci sia anche il cantante ma vi ricordate che poi nel primo video che ho fatto su youtube di sto gioco qua laggava il gioco non si sa il motivo non di qua magari che poi tra l'altro adesso che ci penso siamo su gamecube quindi non so se abbiamo delle stanze invisibili però vediamo con la free camera non la fa muovere e no perché la telecamera fissa no peccato quindi se c'è la telecamera fissa nei giochi non lo fa fare dove cazzo sono andato ah beh in realtà sono giusto purtroppo si ah e poi mi becco la fissa dei zombie non so se c'è un ordine giusto da fare comunque sto facendo così un po' come mi capita che cos'è la libertà qua c'è lo rave si 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 ha proprio ok ho i proiettili sparagli un headshot telecamera ah siete proprio lì ok ah è una festa ma bacia sto cazzo ok ok sta bene sta bene non gli ha fatto niente eccoci qua c'è simpaticone si ma devo assolutamente è l'unica via questa forse l'ho ammazzato non mi ricordo dunque dicevamo allora una foto di un valoroso che indossa il braccialetto che indossa un braccialetto cerchiamola un po' arancione ok e questa è una poi poi un'immagine di un santo che indossa una corona un'immagine di un santo che indossa la corona e lui guarda come mi giudica un santo che indossa una corona ma sono fortissimo si è diventato arancione che è il colore che si aspetta no doveva diventare della fine oh che miseria ero sbagliata io me ne vado me ne vado ho sbagliato perché mi sa che c'è anche una copia dall'altro lato mi ha fregato no 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 non ci sono non ci sono poi dicevo questo e che diventa arancione e siamo d'accordo è un po' rosso per me comunque lo dice lui mi fido aha si e quindi diventa arancione cioè verde e fin qua ec 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 è diventato verde ah quindi loro mi attaccano solo se ne faccio tre sbagliate immagino ma mi avvisava anche premi sul sito post l'immagine di un saggio che indossa una collana che diventa viola un saggio che indossa una collana e diventa viola diventa viola si no rosso scuro no ma mi hai detto nel lato opposto ma tocca miseria l'ho sbagliata mi hai detto nel lato opposto cioè per lui il lato opposto era lo stesso lato quindi no 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 non compro niente dunque abbiamo detto lui che diventa arancione poi abbiamo detto questo che diventa giallo cioè diventa verde poi abbiamo questo è un saggio che indossa una collana da questo lato e diventa viola ecco vai alla foto di Lisa in fondo per il pulsante ma non si aprirà e andiamo di là si ah però il cancello vuole la vecchia chiave perché i giochi lineari ci fanno schifo chiaramente ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta e abbiamo vinto almeno la statua però vuole la chiave antica a sto stronzo perché non è che cioè è chiaro e mica potevo essere direttamente lì comodo tanto ho vinto quindi non mi fanno niente è agitato vado via e devo andare al cimitero beh è sempre stato lì fermo in realtà salve si qua c'è il rave si 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 oh c'ho si qua ho sbagliato io non volevo importunare dove è quell'altro eccolo lì l'altro ah questo qua è proprio oh camicia ci siamo incartati in due ecco però aspetta aspetta di qua non posso farci nulla per il momento andiamo da una parte poi vado da Rebecca e poi non lo so ormai ho già terminato tutti quindi vado tranquillo o a a a a a a anche se in realtà non so se salvavano in realtà e poi mi manca una maschera sola se non ricordo male perché sono 4 io no 3 e si quindi abbiamo detto che ho una maschera senza allineamenti che non vuol dire senza allineamenti senza occhi naso ah in quel senso e questa è senza bocca ok questa com'è? ah ok uno così esplora una villa e c'è una voglia pazza di rompere una barra comunque questo abbiamo detto che non c'ha la bocca come no? allora è giusto cioè fa tutto in un colpo poi mi aspettavo che rimanesse con una sola catena ma no due giù allora è giusto non è giusto vediamo cosa mi dice e poi non lo so ah poi c'è uno scundo a prendere, ne abbiamo anche se non so come e tanto adesso c'ho lo spazio in inventario approfittiamone non suona più, è morta ah no, ok e poi c'è il cova invece c'è la rida eh le frasi dalle baci perugine di Chris vado e lei impose ah ah ho fatto bene a prenderlo allora dunque eh sì diario di che non me ne frega niente per la storia ma non per la partita mi sembra al volo ci penso io, ci penso invece nel Resident Evil Zero succederà la stessa cosa ma dovevo controllare l'altro personaggio cioè lì quell'altro perché Rebecca non sapeva suonare ha imparato da un capitolo all'altro eh ce l'ho fatta sono un campione ah rimani qua no ma devi lei è un pianoforte adesso dica ah tutto qui me ne vado rimani qua per sempre oh una cosa comoda l'ha fatta il gioco incredibile metterlo scudo qua e poi vediamo cosa succede non ci sono ah ecco come sbloccavo l'orologio quante cose ho fatto nella vita sì sì chiaramente non lo so perché poi mi ricordavo addirittura che in Silent Hill 2 c'era questo enigma che in realtà potevi fare cioè giravi finché ti arrivava alla fine qua invece no qua sì 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 golden embleme l'ho fatto sì 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 allora deve puntare forse no no in realtà questa è la posizione iniziale quindi non deve puntare quelle robe lì dunque dunque vediamo un po' allora mi fai in modo che la lancetta picorta punta verso l'armatura e l'altra mano sull'elmo quindi quella piccorta l'armatura e poi l'elmo quindi la mano piccorta sull'armatura piccorta l'armatura e ci sono e l'altro a sinistra ok giocando a sinistra due volte uno ah mi sembravano già lineati sì non quello testina ecco esattamente il contrario dovevo fare torna su grazie no sono invertiti ecco perché mi ha fregato sono invertiti mi sa ma perché gli ha fatti al contrario la traduzione ma scusami no ma è pazzesco ecco perché eh non sono io stavolta oh non so se Nabin Sider sapeva di questa cosa però è stata pazzesca oh yeah la chiave definitiva ho il passepartout attenzione e c'ho lo scuro signori no aspetta no l'ultima è l'elmo ancora però ci stiamo avvicinando all'ultima adesso ci sarà da ridere cos'è che non ho fatto non mi ricordo più niente non solo delle porte rosse ne abbiamo di porte rosse qui la cilardolina al secondo piano mi finisco quella aspetta se passo da qua sotto in realtà forse è meglio così faccio anche un salto all'inventario e salvo che può essere un'idea ci volevano una stanza così in un gioco così è super divertente se devo andare piano sono qua sono dal pezzente la prima devo girarmi al volo e andare però lui è già qui oh te l'ho fatta no perché mi ha ferito lo stesso l'ho sparato perché e curati che ti devo dire no no che palle l'elmo qua va bene è rimasto lì da solo incostudito può arrivare a chiunque va bene quindi volevo prendermi l'erba mista e poi salvare ho fatto parecchi progressi da prima e devo dire cosa mi dice di bello niente non mi dice assolutamente va bene va bene lo fisso in un modo un po' inquietante non so se è innamorato siamo a posto i poiettili un po' ne ho quindi abbiamo detto che devo esplorare ancora la villa in realtà in generale e andare in tutte le porte rosse mi sembra che quella all'ingresso rossa si potrebbe si dovrebbe aprire dove sto andando perché mi perdo in realtà ci siamo ci siamo permesso gentile gentile molto gentile ancora sta stanza si si apriva questa porta non mi ricordo assolutamente vediamo no non è neanche questa ma veramente due stanze con l'erba incredibile proviamo da questo lato e facciamo quello che e no e no per in realtà no lì dal cancello no no sto lato non lo devo fare no perfetto salgo e mi ci trovo nella prima porta vai ovviamente qua adesso e sinistra gli ha invertiti siamo di qua sì anche perché di là in realtà di là c'è solo una porta chiusa che potrei controllarmi vediamo di qua che c'è solo una porta perché invece di là c'è tutto un mondo siamo giusti? no esattamente la parte opposta ciao si qua in realtà ho già fatto tutto non ho bisogno di tornarci perché è quella dove ho trovato un tizio del nuovo team ci siamo del simpaticone ciao da gordo speriamo che ho capito che stanzare speriamo che ne valga la pena ah non ce l'ho mi spiace eeeh subito se la prende che non ce l'ho e vabbè però abbiamo detto devo andare solo dritto oh e poi facciamo sto posto degli insetti va così ce lo togliamo anche se non so esattamente cosa devo fare ma lo guarderemo subito mi apri almeno sta porta? col cazzo va bene facciamo il puzzle degli insetti con la musichetta tattica vediamo un po' ehm si b puzzle va bene oh e già sblocchiamo l'ultima statua veramente dove ho raggiunto la stanza tema pesca a seconda della situazione cammina verso il display vicino alla scrivania e prendo l'amo e facciamo piano piano e prendiamo sto amo da gordo poi si mi fa piacere si poi sull'isperio a destra c'è della porta c'è l'esca di un'ape va bene apre e apre che sarebbe questa si l'esca di un'ape si devo combinarli combini i due per creare l'esemplare d'ape d'oro istruisci il punto di esemplare d'ape con il display d'oro va bene no stai fermo giusto mi devo premere l'interruttore metti in barri al suo posto sul display d'ore e dovrei premere il pulsante e si sposterà verso l'alto quando lo aggiungi attaccherà oh cazzo ah tramite un filmato quindi ce la fa lo schermo no non voglio vendicarmi andiamo via ma come non succede ma che cazzo dici ma perché sei stronzo nella tua vita mi hai detto a destra e sono andato a destra ma scusami scusami esca d'ape a forma d'ape o l'hanno attaccato ma non è che devo in vera aspetta ho un dubbio vediamo se non è che tante volte uno dice magari no no adesso eh mi vedi che sono in difficoltà se sai qualcosa però in realtà sto giocando la soluzione premiamo l'interruttore e vince vince signori vince vince ah abbiamo l'esagono ci manca ancora mi fai almeno prendere la cosa no non me lo dire che è inevitabile no schia bravo 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 ma schiaccialo andiamo via andiamo via non mi importa vado via oh che miseria no 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 ce l'ho fatta stemma del vento preso e si così lo vedevo bene stemma del vento che devo usarlo mi sembra in quella stanza finale dove mi aveva attaccato un cane qua mi sembra di aver preso tutto se non ricordo male si 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 una stanza anche inquietante tra l'altro che sembra che ci sia una persona sotto le coperte geniale non li ho presi male male signori male male ciao mi sembrava che avessi già scritto prima forse mi sono confuso però tutta sta zona pulita è una goduria e di nuovo devo giovagare diciamo per la casa anche se tutto chiuso è pazzesco quindi no in realtà me lo voglio portare perché lo devo usare poi in quel posto se riesco a beccarlo il posto dovrebbe essere mente locale anche andare a B1 tra l'altro l'incontro sul sentiero perché di là c'è un rave party quindi non posso andarci non sono invitato eh no dovrebbe essere in realtà proprio qui ecco secondo giro largo della mia vita perché infatti sta proprio nella curva l'emblera si poi dà e poi lì c'è l'uscita e dove andarmene quindi passiamo da sopra se questo è il mio destino passiamo da sopra e apriamo le altre le altre porte spero che congile sia veramente ci vuole poco poi in realtà in realtà no non è forse porca miseria se mi fai schifo oh grande oh e ci vuole tanto farlo sempre c'è il cobra di merda da affrontare non lo voglio non lo voglio anche se anche perché in realtà mi sembrava che ci fosse un trucco che in realtà non è che devi ammazzarlo devi prendere la maschera e andartene quindi teoricamente cioè è difficile apposta perché tanto non devi sconfiggerlo quindi ci sta porca miseria porca miseria mi tocco no però devo andarci col fucile mi sa per sicurezza però 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 volevo prima andare a mettere sto cubo sto esagono poi mi toccherà per forza affrontarlo mi dispiace ma siamo giusti di qua e in realtà sì e devo andare nel postaccio sì ma che lì ma che lì c'è una porta cosa per un attimo allora è una difficile convivenza è la nostra ecco per l'appunto oh no non ce l'ho portata ogni volta sono impreparato quando ho la tanca non ammazzo nessuno e viceversa bellissimo yes no non è la stanza che pensavo ma no però in realtà il pozzo furioso l'ho annientato quindi posso camminare tranquillamente non l'ho annientato il cazzo gentilmente chris vai via vai via vai via vai via vai via aspetta 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 no lì ci sono le armature non devo andare di là pensa 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 sento 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 va bene sta tigando no quindi dove era quella porta che mi serviva ah ok dovrebbe essere questa che ho qua ancora esci o entri eh permesso permesso se devo entrare ma deciditi posso entrare no non posso entrare la vuoi sfondare proprio eh oh buon salve fammi andare fammi andare ma vattene via buttalo 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 vai a posto ci è deciso adesso entra e esce entra nella porta scorrevole un po' stunque si si in questa stanza c'erano quelle con tutti gli armadietti ciao ciao oh pugnale perché non l'ho preso lui ciao in fondo di qua c'è la pianta si si già posso il tutto per non andare dal cobra tra l'altro ah è tornata qui giustamente perché eeeh è un zomma no per il momento sta bene già se sta così sta bene ogni volta me ne pento quindi prendiamoci sta tanica e poi devo posizionare sta roba però mi sa che era tutto a destra già in quella parte lì con la porta senso unico eccetera eccetera quindi devo andarmene tutto di qua c'è il rave però se potessi evitarlo però mi sa che non si può non si può evitare il rave purtroppo ciao poi passo da sopra però eh volendo passo da sopra che ho la strada libera in realtà quindi non sarebbe neanche una brutta idea e poi mi toccherà usare il cobra passa di lì in generico sì abbiamo detto poi c'è il giardinetto sì infatti si è detto che sono detto che passo da lì cioè quindi bravo se non ti piace metti un numero tu quindi sì 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 3f c'è l'armatura sì devo passare di là aha però il bestione me lo becco no aspetta non è il bestione no non mi sembra no staccato sì assolutamente sì che miseria chris dove cazzo stai andando bravo bravo via 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 anzi stunnalo stunnalo sto stronzo che miseria l'ho svegliato male l'ho sfatto l'ho fatto la cazza permesso vado via vado via eh sì anche sono dalla parte opposta della mia vita allora risalgo dopo risalgo dopo e scendo dopo facciamo così ah non ho preso le cure potrebbe essere un problema risalgo quindi 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 inventario sul percorso non ce l'ho ho fatto un giro a vuoto avete ragione quindi bravo che stai laggiù bravo 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 perché ho sbagliato quindi andiamo di nuovo e stavolta la sfruttiamo Rebecca giustamente così non spreco neanche le cure guamì guamì bastava muovere il braccio per curarsi perfetto grazie grazie abbiamo detto che mi servono le erbe miste ok siamo pronti devo farmi tutto il giro all'indietro adesso e andiamo direttamente lì da sopra su e giù già meglio mischiarle che lasciarle così sono già mischiate sono già mischiate no no siamo sul lato giusto sì così scendo e vado direttamente a divertirmi no aspetta ho sbagliato forse ho sbagliato no e no posso solo farmi il rave no è l'unica perché la porta è bloccata da questo lato porca miseria allo schifo e becchiamoci sto rave ma mica tanto c'è solo un gioco che mi fa paura pt quello proprio non gliela fa troppo paura per il resto gioco abbastanza a qualsiasi cosa non mi fa paura niente mai sentito il pt ma come che l'avevo anche portato in live su youtube vabbè non importa sì ma è pt quindi un po' diverso da tutti questi salienti che ho giocato finora anche se è gratis scommetto che non l'hai provato questa era forse era qua che devo mettere l'emblema no no ma non è che aspetta aspetta magari scordato delle erbette mi va bene no però posso metterci il carosene vabbè eh lo so ma questo era bello quindi mi sa che è dietro tu stai lì quello è sempre lì 1-3 via la camicia via levati levati grazie gentilissimi c'è il simpaticone devo andare alle sue spalle oh così si colpisce quindi è randomico l'edishot non posso farci nulla e ho trovato la strada pare di sì 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 no 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 questo è un altro posto è un'altra roba che palle allora dov'era quella roba lì andiamo dal copra e speriamo in bene però dovrebbe essere abbastanza vicino sì è vicino se passo dalla porta senso unico che è palle che è palle però sul percorso abbiamo un inventario anche quindi molto molto bene e andiamo da alcoba tanto qualsiasi cosa per te sì non è che conosci il gioco che puoi dirmi no guarda secondo me quindi sì certo mi farà passare ah è vero la foto è l'edishot quindi si passa tranquillamente e aiutami no dove si metteva questo esagono qua che tra l'ora che sto cercando di capire dov'è qua perché c'era perché chiaramente mi ricordo la stanza che c'era una sequenza di esagoni ma non mi ricordo dove sia comunque devo solo mettere la stemma del vento da qualche parte c'è proprio lineare lineare poi devo andare contro il cobra quindi devo usare l'armamentario pesante spray proiettili e per gradire no però sono stupido uno slot deve essere libero se no come cazzo faccio a prendere giustamente quindi vado beh in realtà potrei anche salvare metti in caso che muoia perché no tre di inchiostratori perché non l'ho unito agli altri vero? vero signori verissimo verissimo è anche meglio salvare dopo vabbè vado vado in missione vado mi ricordo che non devo avere pietà per lui quindi vado con l'armamentario pesante da qui devo andare esattamente non mi dire che serve la chiave dai e però è rosso quindi sicuramente è bloccata non mi dire che tutti i miei sogni di coraggio sono morti così adesso scommetto che la chiave serve poi solo per quella roba lì e però finora non l'ho mai usata l'esagono del vento ma tanto si usano tutti gli esagoni in quella stanza un po' esterna davanti alla porta allora a rigor di logica aspetta la chiave l'ho messa dicevo se la chiave scudo io non l'ho mai usata finora questo mi sta significare che è solo per il cobra che la uso in teoria perché se tutte le altre porte le ho provate tutte quindi non è possibile se no quindi da qui devo andare esattamente oh sono comodo di qua il disegno non so di che disegno parli perché se parli della mappa l'ho fatto siamo pronti siamo pronti che mi è sempre stata la mia croce ma non era nel cortile vabbè cortile ci sono tanti cortili ah ah vedi che a rigor di logica ci ho avuto ragione così non ho perso cura andiamo diretti siamo pronti siamo pronti siamo pronti allora mi ricordavo il trucco che non bisogna ucciderlo bisogna essere solo veloci per quello l'hanno fatto difficile cucù vieni fuori eccolo ma che bello che sei oh buon di buon di buon di la cazzo di maschera di merda guardalo 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 no vabbè ma Chris ma che cazzo ti ho appena toccato no no il veleno di merda il veleno di merda no è la fine è la fine porca schifo che quanto fai che poi rispetto allo remake è più facile perché la maschera è già qui sì però che cazzo però se vado da Rebecca in teoria mi cura in teoria mi cura Rebecca in teoria dal veleno opla sì mi ha fatto proprio un danno così stronzo ma veramente non posso curarmi comunque ho vinto anche perché ecco me lo ricordavo c'è una seconda fight del cover dove devo ammazzarlo non adesso qua non si può ammazzare no fa parte della clip fa parte della clip quindi dovrebbe essere perfetto perfetto ce l'abbiamo fatta sì 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 no a posto a posto ci pensa Rebecca cioè ci devo pensare io devo fare la stessa cosa che ho fatto prima però con Rebecca quindi è normalissima sta parte e quindi in realtà come è possibile cioè veniva avvelenato a prescindere se non se non mi colpiva no cioè sì lo puoi battere però non è consigliato perché tanto per la storia deve comunque tornare quindi puoi anche non combattere cioè anzi è meglio però mi ricordavo proprio che il cobra era una cosa cioè dovrei ammazzarlo poi dopo non subito in questa prima fight perché tanto tornava quindi che senso c'ha la seconda porta Gelsomino è che dici grazie no l'item mi l'ha già dato quell'altro che ha una radio ancora non ho ascoltato la musica però mi ha dato la radio bravo sempre in gamba e ma lo ammazzo dopo perché come vedi io ho preso la maschera che mi serviva e basta non mi serviva nient'altro il fatto è che questa c'ha uno spray e comunque che vorrei anch'io non è il momento giusto perché se no mi rupererebbe l'inventario non è una cosa bella però penso su PS1 era ancora più difficile perché c'avevi un muro grazie c'avevi un muro davanti alla maschera e quindi era un po' più difficile perché dovevi passarci attorno invece qua diretto ma è un'altra strada va bene ma forse l'ho messo a faccia non mi ricordo se è per quello ah forca miseria se ti devi fare i cazzi tuoi oh grazie c'è ci siamo giusti siamo giusti ma che così piano voilà a posto si è un maiuscolo si è un maiuscolo bene in forma in forma vero bravissimo perfetto e non so in realtà c'erano troppe cure oggettivamente però tanto la chiave non mi serve non mi ricordo cosa c'è esempio una barra frusi o un zombie normale non mi ricordo perché mi ricordo che non è arga anche ma prima facevo una tappa nell'inventario perché appunto mi sono messo più armi del dovuto tanto siamo comodi perché la maschera devo metterla proprio lì è comoda proprio in mezzo devo tutte è l'ultima che devo mettere io quanto lo voglio fucilare lo fuciliamo questo giusto per una prova di forza ecco prova di forza avvenuta no tanto adesso sblocchiamo la barra vediamo e così mettiamoci un po' di proiettili graffè dai 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 ce la facciamo ce la facciamo dunque lo spray mi sembra eccessivo perché non mi ricordavo fosse così forte e boh in realtà poi non ho più munizioni però ho tanniche e magari lo zombie che ho ammazzato prima è morto vediamo se mi serve il fucile ho esagerato anche se poi in realtà sto finendo la pistola quindi per fare una bellissima cosa ecco nell'equipaggio dai così finiamo gli ultimi 4 proiettili non so dovevi dovevi essere morto testa ok morto dai dai lo prendiamo per morto vai madonna se sei stronzo però mettiamo l'ultima maschera e non se ne parla più l'ultima non se ne parla ho fatto tutto in disordine becco sempre le maschere a caso sei stupido dai oh grazie chi esce? uno zombie normalissimo ah no non esce un cazzo ma è vero ma è vero la più grande illusione della storia credo, no aspetta no esce qualcosa questo è un sveglio palese no ma va è uno zombie pazzo furioso ma li ho già affrontati minchia che alito aha questo è ancora vivo questo è ancora vivo beh Chris però non fare finta di colpire mannaggia te ho fatto bene a conservare il fucile ho proprio avvertito che ha perso la sua vita e in più no sono arrivato per culo perché se no non ne uscivo mi sa tanica subito subito mamma mia ma quanto sono stato bravo raga preciso preciso proprio molto bene ha tutto qui? ma sei serio? scusami eh aveva qualcosa qua è per forza se no ah ah mi pareva perché se no non capivo il senso di questa cosa ah e so anche dove piazzarlo questo e non ci torneremo mai più questo dovrebbe essere ecco quindi dove c'era quell'altro pazzo nella stanza stretta non quella verde quell'altro ancora e beh avevo il fucile ho risparmiato tutto tutte le munizioni per forza ma in realtà non so se sia normale che sia arrivato ad usare il fucile esaurendo la pistola non sono sbagliato in quello che ho usato troppi proiettili però mi sembra strano perché ho anche preso un sacco di mozzi comi cioè dovrebbe essere giusto adesso questa cosina qua la devo piazzare esattamente ma ma mi sembra che l'headshot sia randomico perché se io dico di sparare in alto non lo prende proprio quindi non posso dirgli io di fare un headshot ecco devo andare esattamente a destra già 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 io sono 2F quindi cioè sono a metà devo beccare la rave e becchiamoci sto rave che ti devo dire a me sembrava randomico il suo headshot e non lo posso controllare mi sembrava Non è di qua, no Non mi ricordo cosa c'è di qua Ah no, è una stronzata di stanza Per quello me la sono scordata No, ah beh, sì vabbè Dove c'erano i cagni, eccetera, eccetera Ne vuoi? Toh Oh, è tutto più bello col fucile Forse aveva una tannica Però mi sa che non li ammazzavo così C'è ancora? No Ah no, gli ho fatto un bellissimo headshot Giusto, giusto Ecco qua che attivo il meccanismo Voilà La texture, per cortesia Chissà cosa becchiamo adesso Ah, siamo a questo punto Ah, come le tartarughe Oh no, ci sarà un sacco da fare Granata Ma sei stupido, granata Devo rifarmi tutto l'equipaggiamento Ma qui non c'era anche dei proiettili qualcosa Ma chissà perché mi ricordo da oggi Ah, ma ci sono due stanze che non vedevo Mi sa che quella dritta è per andare avanti Ma di qua ci sono altre cose Non mi ricordo, ragazzi Questa parte non me la ricordo L'ho vista ma non me la ricordo Oh signore, stiamo andando qua No, mi perdo, mi perdo, mi perdo È la fine Siamo andata a salvare E la vediamo la prossima volta No, volevo lo spray Ciao Qui cosa abbiamo? Giusto per curiosità Possiamo fare una cazzata Vediamo Ah, beh, un clip Come in, does anybody hear me? This is Chris This is Brad Stars Alpha Team Bravo Team It doesn't matter Respond I repeat This is Brad Brad, this is Chris Brad Damn Oh, salve No, 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 no Guarda, guarda Lascia perdere Anche se col fucile era invitante Però vabbè Quindi abbiamo ben due porte da controllare La mappa è aggiornata con nulla Per il momento Ah, ma no Ok, è aggiornata così Ci sta Va bene Quindi tutto Andare a prendere Tutto l'inventario In una direzione È comodo l'inventario Poi devo fare il giro Però vabbè E ci siamo Giusto per chiudere La veloce Perfetto Usiamo pure Che tanto c'ho le erbette Eh, la pistola Non lo so Spero di trovarci Delle munizioni Poi al limite Chiederò La prossima volta E direi che andiamo a salvare No, che cazzo è sta Andiamo a salvare E basta Già Chissà perché Quindi andiamo subito a ridare Vediamo chi abbiamo Quindi domani siamo con Amnesia e Bird Su 4Gamers E il Invece E poi tutto Il resto dei giorni Lo sappiamo, no? Io sul momento Non me lo ricordo No, però mercoledì Abbiamo da vedere La leggenda del vento Il nord Che manco io ho visto Quindi non so Come sarà Poi Poi vabbè Giovedì Con finalmente Max Payne E venerdì Con Assassin's Creed Unity Andiamo da una persona nuova Dai Per cambiare un po' Che ha un nome Difficilissimo Musho Only Digital Craft E c'è da Mr. Watt Perché non è valido Dai Bui Giovedì Grazie per il raid, grazie mille.